A fare questo primo video con il cavalletto per presentarvi le mie Nepenthes, cominciamo subito con una prima, eccola qua, che è una ventricosa, sono due piante, questa è quella della piccolina, che fa questi, mentre la grande mi sta facendo questi, questa è la piccolina, sua figlia, scusate, poi vedete la grande fra questi, poi andiamo avanti con la prossima, la prossima pianta è questa qui, è una latta, sempre nel Nepenthes ovviamente, in cocco, tutto in cocco, le mie Nepenthes, piccolina, per esempio in un garden, 3 euro, non ha cd, sta facendo però, poi anche questo, molto interessante, bene andiamo avanti con la top, non è la migliore che ho, la più bella, questa, la Vici Pink, qualcuno dice che è Red Stripe, vabbè, come potete vedere fa questi cd, mi sta facendo uno che è nuovo, ops, sta facendo uno che è nuovo, eccolo qui, bene andiamo avanti con la prossima, che è questa, la Blue de Mary, pianta molto carina, molto piccola, però sto facendo cd questa, l'ho trasferita in cocco, quest'estate forse è fatta male, non era proprio periodo, però non cresceva, quando ho voluto provare ci sono anche delle ragnatele, eccola qui, questa è la Blue de Mary, poi abbiamo qualcosa di pianta che forse tutti i coltivatori di Nepenthes devono vedere, la Rebecca Soperi, uno due, uno due in un, questa è la prima, fa questi, c'è anche il suo polloncino, qua, non so se si vede, eccolo lì, poi c'è l'altro appunto, eccola qui, vedete questo li fa molto più grandi, gli cd sono molto grandi, anche qui c'è il polloncino, scusate, anche qui c'è il polloncino, eccolo qua, che è qui sotto e non si vede poco, va bene, queste erano le mie Nepenthes, ci vediamo alla prossima, ciao a tutti!